Edizione serale del TG Noi, un saluto ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento. L'apertura di stasera è dedicata alla situazione maltempo, a quanto è successo soprattutto in Versilia e in Garfagnana. Oggi si è tenuta una riunione nella sala operativa della protezione civile alla presenza del presidente della provincia Menesini, del prefetto, per stabilire esattamente come stanno le cose. Tutto sommato poteva andare peggio. Vediamo. È serio, ma non preoccupante, il bilancio della viabilità sul territorio provinciale a causa dell'ondata di maltempo delle scorse ore. Per fare il punto della situazione si è tenuta una riunione nella sala operativa della protezione civile, alla quale erano presenti anche i tecnici regionali, la prefetto Simonetti e il presidente della provincia Menesini. Sono oltre 50 le criticità emerse sul territorio, con 10 viabilità minori interrotte da smontamenti e frane. Le maggiori preoccupazioni si registrano in Versilia, Stazzema, dove il capoluogo è rimasto a lungo isolato e la cui strada è stata era aperta solo nella mattinata di martedì. Sì, una situazione che sta rientrando, che si sta normalizzando, che lascia chiaramente diverse criticità. Accanto al Serchio, che appunto è esondato questa mattina molto presto, ci sono comunque delle frane sul territorio. Sulla strada provinciale Castelnuovo-Careggine c'è una situazione di grande criticità che ha interrotto questa strada. Lo stesso vale anche sulla strada per Stazzema e altri punti minori in giro per il territorio. La protezione civile è attiva, sta facendo il punto di coordinamento con tutte le protezioni civili a livello comunale, proprio perché ci sia un quadro puntuale della situazione da trasferire appunto alla Regione Toscana, che sta facendo anche delle valutazioni se dichiarare lo stato di emergenza regionale. Quindi l'occasione di stamani è anche quella appunto di confrontarsi su questo e fare dei sopralloghi in merito. Intanto le previsioni meteo danno la situazione in miglioramento per la giornata di mercoledì, mentre attesano nuova perturbazione tra giovedì e venerdì. E andiamo invece a Camaiore perché domattina, mercoledì 13 dicembre, alle 18.30, chiedo scusa, domani pomeriggio alle 18.30 presso il ristorante Il Chiosco nel Bosco, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Camaiore, Marcello Pierucci e i tecnici comunali incontreranno gli abitanti di Casoli e delle località limitrofe per illustrare la situazione della frana che si è staccata il 7 novembre scorso sulla strada verso Trescogli. Occupiamoci ora invece dei migranti e soprattutto di quelli che sono ospitati sulla collina di Capriglia nel Comune di Pietrasanta. Centinaia le firme contrarie presentate al commissario prefettizio che amministra Pietrasanta. Vediamo. Circa 260 firme sono state raccolte sulle colline di Pietrasanta per dire no all'accoglienza dei migranti a Capriglia. Un'iniziativa promossa da un gruppo di attivisti con adesioni porto a porta nella frazione collinare e nella confinante Capezzano-Monte. La petizione sarà depositata giovedì mattina in municipio e a quel punto le firme potrebbero essere ancora di più. Obiettivo chiedere al commissario prefettizio Giuseppe Priolo di stoppare l'arrivo di 20 richiedenti asilo che saranno ospitati in un bed and breakfast di Via delle Piane e in un altro immobile di zona. Vale la pena ricordare che il Consiglio Comunale durante l'amministrazione del sindaco Massimo Mallegni aveva approvato un atto di indirizzo per negare l'adesione del comune ai progetti di accoglienza dando precedenza a italiani e stranieri già residenti. In questo caso si tratta di una struttura privata gestita dalla società Le Macine SRL. Risultata giudicataria del bando emanato dalla prefettura di Lucca per il biennio 2018-19 che in tutto stanzia 43 milioni di euro per i migranti. Alla SRL che ospiterà profughi anche in altri immobili fuori Versilia andranno 1.300.000 euro in due anni per gestire l'accoglienza secondo la graduatoria pubblicata da Palazzo Ducale. Tra le altre realtà versiliesi vincitrici del bando spicca la misericordia di Lido di Camaiore che per 73 posti avrà oltre 1.800.000 euro. All'azienda agricola Le Poiane di Stazzema 30 persone per 744.000. Stessi posti per la misericordia di Torre del Lago mentre per quella di Forte Remarmi solo 13 migranti per 317.000 euro. Cambiamo argomento e andiamo ad occuparci invece di lavori pubblici. Il piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020 presentato dall'amministrazione comunale di Viareggio ha delle priorità che riguardano in modo particolare il rifacimento delle asfaltature, dei marciapiedi e il recupero di molti immobili. Vediamo. Completamento delle opere incompiute, edilizia scolastica, lavori stradali, nuovi marciapiedi e manutenzioni. Saranno queste le priorità contenute nel prossimo piano triennale 2018-2020 dei lavori pubblici del Comune di Viareggio. All'interno del piano c'è un elenco di lavori annuali con assicurata la copertura finanziaria e il veloce avvio delle procedure di appalto. Nel 2018 avremo a disposizione una cifra importante per i lavori della città, circa 3 milioni di euro. Ci consente di fare interventi in aree che sono rimaste un po' indietro in questi decenni. Sono lavori di manutenzione dei marciapiedi, degli asfalti. Abbiamo anche intenzione di rifare l'intero belvedere di Puccini, il salatore del lago. E di fare altri interventi che riguardano le piste ciclabili, con un'attenzione particolare dall'amministrazione a Torre del Lago che ha bisogno di interventi importanti. Per quanto riguarda il completamento del mercato ittico e della terrazza della Repubblica? Dopo le feste inizieranno sicuramente i lavori all'ittico che contiamo, appunto come da impegni già presi con la Regione stessa, di concludere lì entro la fine del 2018. Per quello che riguarda la terrazza abbiamo verificato finalmente il quadro dei sottoservizi che ci sono, tutta l'impiantistica sotterranea e partiremo anche lì intanto con i lavori dei sottoservizi con l'obiettivo di rifare tutta la pavimentazione e quindi avere una terrazza della Repubblica nuova nel 2018. Ed è quello che certamente si aspettano tutti i viareggini per riqualificare ulteriormente la zona più prestigiosa della città di Viareggio, quella davanti alla città Giardino. Occupiamoci ancora di lavori, di lavori pubblici, in questo caso i lavori necessari al Teatro Ienco per una sua possibile apertura o riapertura il più veloce possibile. Vediamo che cosa ci dice in proposito l'assessore che si occupa dei lavori pubblici. La data della riapertura del Teatro Ienco a Viareggio, chiuso e in abbandono ormai da anni, non è ancora fissata. Sono certi invece i lavori necessari per la sua messa a norma che prenderanno il via con l'inizio del prossimo anno. Dopodiché al Teatro Ienco si rialzerà il sipario. Il tono è decisamente ottimista e l'augurio è che quanto prima possa essere comunicata alla città di Viareggio la data della ripresa delle attività culturali con la presentazione di un cartellone di iniziative. Un suggerimento lo vorremmo dare all'assessore Sandra May, responsabile delle politiche culturali viareggine. Creare, una volta terminati i lavori nel Teatro Viareggio, una giornata dedicata ai cittadini per invitarli a prendere visione dei lavori fatti con una visita anche dietro le quinte, in modo che tutti possano apprezzare finalmente il risultato. Finalmente il 18 di questo mese si conclude l'iter dell'appalto, delle manifestazioni di interesse e non appena avremo la possibilità di aprire le buste e quindi di verificare le congruità delle aziende che hanno partecipato della loro offerta. Partiremo con i lavori il prima possibile, anche questo è un altro degli obiettivi che ci siamo dati. Insomma c'è molta carne al fuoco, sarà un 2018 con tanti interventi per la città per rendere più bella Viareggio. Il comitato di via Matteotti a Viareggio è critico con l'amministrazione comunale locale dopo aver appreso che nell'area della sottostazione, una volta tolte le due antenne di Tim e di Vodafone, oltre alla centrale elettrica e ai tralicci dell'alta tensione, è bonificata tutta l'area, è intenzione del comune di Viareggio di realizzarci un parcheggio pubblico. Com'è possibile, si chiedono i rappresentanti del comitato di via Matteotti, che lotta contro il proliferare delle antenne, com'è possibile che in consiglio comunale durante l'approvazione del piano della telefonia mobile il sindaco dichiarasse che l'area in questione è fortemente inquinata ed oggi si parla di crearci un nuovo parcheggio? Revocato lo sciopero dei lavoratori SEA programmato per il 14. Sentiamo perché. È stato revocato lo sciopero della raccolta dei rifiuti indetto dai sindacati di SEA Ambiente e SEA Risorse per l'intera giornata di giovedì 14 dicembre. Il tavolo di conciliazione, aperto stamani in prefettura, ha portato infatti ad un accordo tra le parti. L'avvertenza nasce all'indomani della scelta del comune di Camaiore, scaduto il contratto in essere con SEA Ambiente, di affidarsi da gennaio a un nuovo contratto per il servizio di raccolta e smattimento dei rifiuti, in attesa della piena operatività di reti ambiente. Scenario che ha messo in allarme sindacati, preoccupati per i tanti posti di lavoro a rischio. Di fronte al prefetto, l'amministrazione comunale ha garantito, nel caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, l'obbligo contrattuale per la società appaltatrice di riassorbire la quota parte di propria competenza dei lavoratori a tempo indeterminato, sia di SEA Ambiente che di SEA Risorse. Per i restanti lavoratori saranno valutate le varie posizioni in appositi tavoli prima della stipula del contratto, con l'obiettivo di garantire comunque i livelli occupazionali. L'amministrazione comunale si è impegnata, infine, nell'eventualità di una nuova gestione, a verificare la valenza giuridica delle graduatorie di lavoratori a tempo determinato di SEA Ambiente e SEA Risorse. L'assessore Simone Leo ha ribadito come la volontà dell'amministrazione di estendere la raccolta porta a porta a tutto il territorio camaiorese, consentirà margini di manovra in favore dell'occupazione. Soddisfatto Michele Massari della funzione pubblica CGL, abbiamo ottenuto quello che volevamo, lo sciopero, ha detto, è revocato. Andiamo a Massanosa perché la fiaccolata della solidarietà che avrebbe dovuto svolgersi questa sera a Stiava è stata rimandata a causa delle condizioni meteo a mercoledì 13 dicembre. Alle 21, lo ricordiamo, il programma rimane invariato, alle 21, partendo dalla piazza della Chiesa, la fiaccolata si snoderà per strada del paese, seguirà l'inaugurazione di un nuovo mezzo di soccorso della misericordia di Stiava e la consegna degli attestati. Occupiamoci ora invece del Festival Mare. Il Festival Mare che si è concluso in questo fine settimana ha vinto l'Inda Raffaità. Vediamo i particolari nel servizio. Si è concluso con successo Festival Mare 2017, trentesima edizione del concorso Canoro Versiliese, tre serate di musica condotte da Loris Marchi, con la finale andata in scena sabato sera all'1 Hotel a Forte Remarmi. Altissimo il livello artistico dei concorrenti, tante voci emergenti che si sono esibite con grinta e determinazione davanti alla giuria tecnica, che ha avuto il non facile compito di eleggere i vincitori. A fine serata sono stati svelati i nomi. Al primo posto si è classificata Linda Raffaità, che ha interpretato Gesù Malad di Laura Fabian. Un grande lavoro organizzativo per il team di Festival Mare, guidato dall'instancabile Derna Polacci, in collaborazione con il comune di Forte Remarmi e la music box di Viereggio, e la partecipazione di Alessandro Bentivoglio, autore di X-Factor e segretario di produzione di moltissimi noti artisti. Calato e si pari sulla trentesima edizione Festival Mare, dalla rivederci al 2018. Il presidio Rossella Casini di Libera Viereggio esprime soddisfazione per la prossima presentazione e discussione in Consiglio Comunale del regolamento per la destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Occupiamoci ora invece di un incontro del sindaco del Ghingoro, che questa mattina si è visto con i rappresentanti dell'Associazione Lucchesi nel Mondo. Vediamo questa foto. La presidente Ilaria Delbianco e il direttore del centro di documentazione Alessandro Pesi. Obiettivo dell'incontro? Collaborare in vista del cinquantenario dell'associazione che cade nel 2018. In programma numerosi eventi che coinvolgeranno Viereggio e le nostre comunità all'estero. Puccini, il Canevale, la Galleria d'Arte Moderna Contemporanea, ha sottolineato il sindaco del Ghingoro, temi intorno ai quali svilupperemo un lavoro di squadra in sinergia con le altre istituzioni nell'ottica dello sviluppo e della promozione del nostro territorio. Bene, facciamo ora una breve pausa e subito dopo la pagina sportiva. Seconda parte del nostro giornale. Occupiamoci ora di sport e più esattamente facciamo il punto con il campionato di calcio di seconda categoria Girone A. La Torre Laghese ha battuto 1-0 la Fibizanese. Vediamo. Con le immagini di Mondo Calcio Versile seguiamo la gara di Torre Laghese Fibizanese di seconda categoria Girone A, vinta dai giallo-viola 1-0 grazie alla rete di Mallegni che permette ai ragazzi di Mazzei di allungare in classifica sul Forte dei Marmi che segue a cinque punti di distacco. Al termine della partita al microfono di Carlo Cosci per la Torre Laghese sentiamo il direttore generale Mario Ratti e per la Fibizanese il dirigente Giuliano Cresci. Una vittoria importante perché il campo come hai detto a te era quasi ai limiti della regolarità. Una squadra molto fisica che hanno tentato di interrompere sempre le nostre trame di gioco con palloni lunghi e poi fisicamente molto prestanti ma la Torre Laghese è riuscita con pazienza e con un sacrificio enorme sono stati incommiabili i ragazzi alla fine siamo riusciti a portarla bene in porto e potevamo anche raddoppiare perché credo che all'ultimo l'arbitro abbia fatto un errore perché dare un fuorigioco su un cross dalla lunetta del calcio d'angolo diventa abbastanza difficile. La partita è piaciuta anche nonostante che non c'erano proprio le condizioni ottimali perché noi siamo una squadra che gioca più volentieri in campi diciamo buoni e non in campi così pesanti anche per le nostre strutture fisiche perché ha visto che non siamo delle persone molto fisicamente ma nonostante tutti siamo venuti giù con lo scopo di fare una buona figura e mi sembra che l'abbiamo finalmente fatta. Restiamo nel calcio però questa volta il campionato di terza categoria l'Atletico a Viereggio perde 1-0 vediamo il servizio. Con le immagini di mondo calcio Versilia relativi ad Atletico Viereggio Porcari di terza categoria con il successo degli ospiti facciamo il punto sul campionato di terza categoria con l'Atletico Viereggio che recrimina per questa sconfitta di 1-0 subita in casa con poca grinta da parte dei propri giocatori almeno questo è il commento dell'allenatore Luigi Troiso in testa viaggia sempre a gonfie vere lo Sporting Viereggio che ha superato il Montuolo per 3-1 e mantiene 4 punti di vantaggio con lo Sporting Forte De Marmi che ha rimediato la vittoria esterna sul campo del Monte Carlo per 2-1 poi le altre partite Azzula Marginone 4-0 Piano di Conca che si è imposto con lo Spianate 3-0 Ritignano che ha superato nel derby la montagna Seravezzina per 4-0 la Don Bosco Mazzola che ha perso di misura 2-1 sul campo del San Macario e poi nel girone di massa continua spedito il viaggio dello Sporting Pietrasanta che ha vinto 4-1 sul campo del San Vitale prima in classifica con 28 punti mentre nel regione di Ducca il viaggio a gonfie vere lo Sporting Viereggio con 30 punti E' tutto per ora facciamo ancora una breve pausa e poi vediamo se c'è un aggiornamento notizie Eccoci di nuovo insieme un aggiornamento che è appena arrivato dalla regione toscana al termine di un incontro con l'assessore alla mobilità si parla di pendolari un tema questo che riguarda e ha sempre preoccupato molto tutti coloro che per motivi di lavoro o di studio si spostano all'università a Pisa o per lavoro o per studio anche a Firenze il bilancio è questo pendolari il 2017 si chiude con tanti segni in più per il servizio ferroviario questo si legge vediamo un pochino alcuni numeri che riguardano appunto il periodo che va da gennaio fino alla fine del mese di ottobre sono in tutto 22,3 milioni i chilometri percorsi dai treni regionali toscani per un totale di oltre 228 mila passeggeri trasportati ogni giorno 67 milioni e oltre e 300 mila in un anno 55 mila sono gli abbonati ed una flotta rinnovata nel 2016-2017 con 6 treni Jats e Vivalto l'investimento complessivo fatto dalla regione toscana per i nuovi acquisti di treni ammonta a 75 milioni virgola 200 mila 75 milioni 200 mila euro il corrispondivo regionale per il contratto di servizio con Trenitalia è invece di 236 milioni di euro ed ora fatto questo aggiornamento passiamo invece alla rubrica degli auguri tanti auguri oggi vanno fatti a Nicola Bergamini super tifoso del Vareggio Calcio festeggia il suo compleanno naturalmente lui Nicola Bergamini è anche un prezioso collaboratore di Mondo Calcio Versilia gli auguri arrivano dai parenti dai supporters bianconeri tanti auguri anche a Franco Ferrari di Vareggio arbitro di hockey su pista per il suo compleanno che sabato dirigerà la finale di Coppa Intercontinentale da parte gli auguri arrivano da parte dei suoi parenti amici e appassionati di hockey è tutto per questa edizione del nostro notiziario l'appuntamento come sempre è per le prossime edizioni buon prossimamente di serata arrivederci l'appuntamento l'appuntamento di sicuro di sicuro l'appuntamento di sicuro di sicuro di sicuro di sicuro Grazie a tutti.